In ATM comandavano loro o almeno hanno provato a farlo anche incutendo timore nei confronti dei colleghi che si rifiutavano di assoggettarsi ai loro desiderata. Oltre a una decina di dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico del comune di Trapani, la ATM SPA Trapani, sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari per presunti casi di bullismo e vessazioni messi in atto per determinare una interruzione del pubblico servizio. Tutto nasce da una segnalazione effettuata tramite il sistema interno di whistleblowing. Il whistleblowing è una normativa di recente approvazione che consente ai lavoratori e dipendenti ai cittadini di fare delle segnalazioni anche in via anonima, avendo la sicurezza di essere protetti e tutelati da tutti i punti di vista. Tramite appunto questa segnalazione siamo venuti a sapere che nell'ambito delle risorse umane di ATM un gruppo di dipendenti ha vessato, è convinto, è incitato, è stigato altri colleghi a fare interruzione di servizio e diciamo a fare ostruzionismo nei confronti dell'attività svolta da ATM. Ricordo che stiamo parlando di uno pubblico servizio che è ATM, una società pubblica di proprietà del comune di Trapani, quindi si tratta di un fatto gravissimo. Si tratta di un fatto gravissimo perché è un'interruzione di servizio che riguarda la collettività del comune di Trapani e si tratta di un fatto gravissimo perché è attenta alla libertà delle persone, dei dipendenti che appunto sono stati costretti a denunciare in via anonima pur di tentare di sottrarsi a questo tipo di vessazioni. Fatto ancora più grave però, regolarmente denunciato anche questo agli organi competenti, è il ritrovamento di tre mazze con una scritta inquietante per chi non sciopera, ad ulteriore dimostrazione del clima intimidatorio che i vertici ATM avrebbero riscontrato da qualche tempo a venire. Nei giorni scorsi sono stati trovati tre bassoni con la scritta per chi non sciopera. Per noi questo è di particolare importanza perché è la riprova che evidentemente all'interno dell'azienda c'è un gruppo di fascinorosi e di, possiamo parlare di bullismo a tutti gli effetti, perché va ricordato che il bullismo, che è una forma di mafia alternativa, non lo troviamo soltanto nell'ambito delle caserme, delle scuole, degli istituti penitenziari. Purtroppo questa è la prova che sono operanti dei soggetti che si muovono secondo la logica del bullismo anche nell'ambito dei posti di lavoro. Ci si sta muovendo sia dal punto di vista disciplinare, sono stati già partiti gli addebiti disciplinari, è stata presentata regolare denuncia alla Procura della Repubblica di Trapani.